Diventa extra large l'Italian Bike Festival, la fiera che a Rimini dal 13 al 15 settembre presenterà le novità del mondo ciclistico. Torneremo quest'anno con la seconda edizione di Italian Bike Festival, lo spazio raddoppia, arriviamo a oltre 40.000 metri quadri di spazio espositivo, avremo 200 aziende presenti e tantissime novità e tantissimi contenuti dedicati a tutti. Parlando delle novità, se l'anno scorso c'è stata l'esplosione dell'e-bike, quest'anno quale può essere il nuovo trend? Quest'anno daremo sicuramente tanto spazio al mondo del cicloturismo, tant'è che la domenica mattina partirà proprio dalla nostra area espositiva una cicloturistica, si chiamerà Malatestiana, dal lungomare andremo alla scoperta dell'entroterra fino a San Marino e ritorno. Fiera della bici, però il piatto forte sono ovviamente i test? Allora, il piatto forte sono i test che sono una parte dell'evento, ma una parte importante perché le persone potranno in anteprima testare i modelli 2020, quindi i modelli che dovranno ancora arrivare in negozio. Non solo movimento, ma una novità di quest'anno anche i talk di approfondimento. Ci saranno dei talk sui bike hotel, piuttosto che su quello che oggi è il mondo del gran fondo, piuttosto che su quello che sarà l'evoluzione delle bike nei prossimi anni, quindi durante i giorni ci saranno questi talk della durata di mezz'ora luna dove noi, con i protagonisti del settore, cercheremo di raccontare quello che è questo mondo a 360 gradi.